Abbiamo avuto un'apertura in cui si tratta di colonialismo e di sclavità. L'altro anno, secondo me, è 150 anni di abolizione di sclavità del Reino. Questo è ovviamente un tópico europeo. Ora che non c'è nessuno di disculpa. E quello che voglio parlare è che voglio impressionare anche per i nostri colleghi ma hollandese, con disculpa, mi stai accompagnando con accionamento di riparazione. E oggi ci sono attraverso l'altro. Quindi, non ho appunto. E' un'esperta, non sono anche mio papi. E mi stai un'acciaio anche per essere buona. Per esempio, il legato di sclavità per i miei sette giorni. E del racismo instituzionalizzato. Tanto nel nostro paese, tanto nella casa, come nel Reino e nel mondo intero. Quindi, mi stai cercando qualcosa di più progresso, con il nostro lavoro, che accionano positivamente per tutti. Per tutti. Non mi sembra sano, ma migliorare e condizionare la vita per la loro gente. Especialmente la minori, non con l'accordo desproporzionalmente perjudicare. Quindi, anche noi, come Aruba, mi stai organizando di una maniera molto migliore. Mi stai pagando con una voce cogerente nella riunione qui. Quindi, per esempio, se la apertura ha existito, non ci sono benefici come paese per il ministro di Finanza, quindi, per esempio, il salito di Bisa, che è chiaro, che è scelta di metà della corona stai. Si è scelta anche in Wega, ovviamente, perché è un po' più più alto. E invece c'è una proposizione di gentile Aruba, coordinare. Non solo la coalizione, ma solo il Partito MEP. Ma a tutti, anche, mi stai criticando il nostro ruota, ma soprattutto un ruota di Partito MEP. E non un ruota di coalizione, ma molto meno di l'antaruba. Quindi, realmente, se ci ci si facciano il miglior beneficio per il nostro paese, perché ci ci si chiudiamo, perché ci si chiudiamo e ci si chiudiamo, 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 ci si ci si chiudiamo i punti di più in amore. La mia mentalità partidista, la reina, e ci si chiudiamo, è destructiva per il nostro paese sicuro, per il nostro paese, per la nostra autonomia, e per l'advento. Quindi, realmente, mi piace il progresso di ESEI e, secondo me, ci sono anche un dialogo nazionale. Non sono solo una domanda politica, ma, guardando l'effetto con l'altro anno, il 150 anniversario, che con noi, come di Arruba, che logra di ESEI, che è l'opportunità di existire per creare un miglior paese, un miglior reino e con il nostro paese per beneficiare di un'opportunità unica.